buon pomeriggio e buon pranzo a tutti cari amici da nicola da lucia la deluxe television ebbene tra un primo e un secondo del pranzo veniamo alle partite delle unici che si sono appena concluse della serie a 1 di primavera 2020 bologna roma 3 a 1 fiorentina dorino 1 a 0 sassuolo cagliari 0 a 1 ora si sta giocando pescara atalanta intervallo 0 a 0 alle 13 si giocherà juventus inter andiamo a fare il punto sulla classifica attuale dove l'atalanta che al momento sta pareggiando contro il pescara capolista quota 46 punti secondo cagliari 42 terza inter 34 quarta juventus 31 quinta roma 30 sesta san doria 27 questa zona playoff zona salvezza genova settima 25 col bologna anche a 25 lassio a 23 empoli 23 sassuolo 23 torino 22 zona playoff fiorentina 21 punti pescara 16 quindicesime sedicesima retrocessione diretta naboli e chievo grazie a tutti ci vediamo tra un po per parlare delle gare di serie a di calcio femminile video a but a a a a a Grazie.